C'è la fontana di Villa Ulmo che è ghiacciata si sta scongelando adesso vedete sono ancora tutti i lastroni di ghiaccio e adesso approfittano anche gli idrovolanti per fare gli ultimi giri mi sa ecco la in fondo il patria ormai un po' abbandonato a se stesso resto lì agli ormeggi hanno buttato un sacco di soldi per ripristinarlo poi l'hanno ci hanno lucrato su un po' con quel dolce gabbana lì è adesso rimasto lì. Ulmo e bisdonno, sta girando la tumba ma purtroppo i cigni sono tutti qua perché la gente sconsideratamente gli dà il pane un'oltre c'erano i cartelli qua ecco, avviva, avviva l'aereo La scoperta è una buona Svegli un po' di ratti l'aereo Svegli il mezzo l'astro Grazie a tutti. 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 a tutti.